la mia bella applicazione che ho scaricato ok andron dove c'è dove c'è il più e nella lista troverà la web box in questo caso io l'ho già connessa ho già messo il nome perché se voi vedete che andate sul simbolino linguaggio che dopo c'è solo inglese o cinese ok se andiamo su nick abbiamo la possibilità di mettere nome in questo caso l'ho già messo ok che credentario e se andiamo nel setting allora vi faccio vedere general setting possiamo mettere tranquillamente la nostra passo questo caso io l'ho già fatta in modo che essendo il wifi noi possiamo da qualsiasi parte che siano in casa e se la web box è in garage connessa la stessa letta wifi noi possiamo con controllarla come vedete ci sono diciamo così alcune indicazioni che al momento ovviamente non le collegate quindi è tutto fermo procede al voltaggio la durata del tempo ci dà la temperatura ci dà quanti diciamo kilowatt carica abbiamo anche vedete qua possiamo anche caricare il film che vi dicevo in questo caso è l'ultimo quindi ovviamente non ce n'è andiamo sul generale ma possiamo anche la cosa bella regolarci l'amperaggio quindi passi partiamo da un minimo di 6 ampere e un massimo data di 32 poi possiamo anche customizzare quindi metterci i giorni che noi vogliamo l'orario fare veramente veramente un sacco di cose in questo caso è attaccato alla pluma quindi non avrà una grande carica però vi faccio vedere dunque allora io lo metto a 6 ampere ok perché come vedete è attaccato solo una pluma solo per farvi vedere e vi faccio vedere il procedimento nel frattempo lasciamo il telefono qua che dice di inserire la spina non so se riuscite a vedere l'inquadro un po meglio ok perciò prende spinone norme la fu inserisco cambiano questo è in base all'auto e se vedete qua dice di schiacciare quindi schiaccio vedete che led incomincia dalla carica adesso qua è partito il tempo e pian pianino gli ampere salvano come vedete qua se noi andiamo vedendo l'applicazione infatti possiamo vedere che sta caricando a 12 ampere ve l'ho detto che è bassa e così ve la faccio vedere meglio vedete che sta facendo la ricarica a questo caso 12 ampere dice da l'ora ci dalla data ci dà il nome probabilmente credente troppo lungo e l'ha abbreviato 32 ampere è il massimo di questa world box il suo numero seriale e i gradi diciamo così di temperatura del dell'apparecchio direi che è abbastanza completa e poi vediamo qua appunto che il led segna per la ricarica se noi vediamo all'interno infatti ci dà 9 ore al tempo restante 14 chilometri diciamo carica all'ora al momento caricato un chilometro perché l'ho appena acceso vedete che su 32 sta caricando 12 ampere ok a 194 volt ok questo è solo per farvi vedere ma la potenza ovviamente io fino a 32 ampere che comunque già un bel caricare perché è quasi il triplo del 12 ampere di adesso possiamo vedere anche qua un resoconto delle ricariche già effettuate e se ci fosse qualche problematica la campanina ci dà anche qualche allarme qualche malfunzionamento io direi che abbastanza completa vedete che c'è scritto connesso wifi e si può stoppare la ricarica cosa importante che non l'ho fatta neanche vedere comunque vi dico è veramente veramente ottima qua adesso non possiamo scegliere l'amperaggio ma si può anche scegliere nel momento che ricarica come possiamo scegliere perché purtroppo con la prolunga la carica è veramente passa come vedete qua è arrivato il simbolo del wifi perché è connessione rete quindi io col tablet a casa già visto funziona alla grande per togliere quindi schiacciamo il nostro pulsantino come vedete 9 8 7 dopodiché possiamo togliere ed ecco qua ed è tolta riserisco rischiaccio faccio vedere ok perfetto è partita che vedete che led sta caricando adesso un attimo che ha dialogo con l'auto ed ecco qua parte il pianino con l'amperaggio lo vediamo sulla nostra applicazione vedete che ha dato la carica che abbiamo fatto adesso ok ecco qui se noi facciamo stop anche dal telefonino fa la stessa cosa si stoppa se lo possiamo sfidare tranquillamente non abbiamo bisogno del cavo col pulsante perché se noi la sfiliare in tempo diciamo prestabilito non abbiamo bisogno di sbloccato la macchina è una cosa molto figa perché alcune ho visto che non c'è la possibilità di fare questo lavoro vi faccio vedere inserisco il tutto vedete che cambia questo colore qua lei è pronta vedete che dice di caricarla o dall'app del telefono oppure schiacciando il tasto noi possiamo fare anche dal telefono start avete visto è partita senza che il tasto sia acceso adesso un attimo che dialoga e come vedete sta caricando eccolo qua nell'auto sta caricando ovviamente la ricarica purtroppo è molto bassa per come dicevo prima per la prolunga ma poi quando la collegherò a questi 11 kilowatt ovviamente sarà molto molto più veloce ok allora vi faccio rivedere tutto rifaccio stop dall'applicazione mi faccio stop dall'applicazione ok avete sentito guardate vedete che vi dice tutto il tempo quanto ha caricato dopo di che la possiamo sfidare tranquillamente perché ci dà la luce qua dopo un attimo si abbassa e siamo pronti quello qua per la prossima ricarica quindi basterà aprirla lasciarla inserita che possiamo programma farlo partire dal pulsante oppure dall'applicazione io penso che è meglio di così e devo dire che il costo veramente siamo al di sotto dei 500 euro ragazzi o più o meno lì quindi spedita penso che sia veramente un ottimo affare e funzionare funziona ciao ciao al prossimo video da grandario